Chi può cercare una buona soluzione Merola ha un piede delicato lui può certamente trovare una traiettoria insidiosa andiamo a vedere, è pronto il fisco del direttore di gara Merola, serve al piazzamento del portiere ma Merola con il sinistro, l'avevamo detto che ha il piede delicato, questo è un grandissimo gol da parte di Merola, traiettoria insidiosa, centrata ha fatto il movimento con il corpo che sembrava sul secondo palo per poi aspettare anche il movimento del portiere e colpirlo lì sul primo palo, Merola Sergio Gomez, dentro a cercato Ruiz, posizione regolare, occhio a Ruiz prova il tiro Ruiz, carne secca il parone ancora lì Sergio Gomez prova a riproporre, ci riesce per Miranda serve al piazzamento dei compagni, alza la testa, va al traversone, colpo di testa grande inserimento di Sergio Gomez Sergio Gomez, fuori per Gil, un srappiazzamento dei compagni il cross al centro c'è Moa, grande parata di carne secca poi ancora Gil, sempre Gil con il destro, Murato fuori gioco però, è la nostra metà campo Gomez, Blanco, buono resterno tentato per Gil scambia con Miranda, che parata di carne secca salva il risultato letteralmente, rivediamo tacco di Gil, bravissimo carne secca, una reattività eccellente occhio all'angolo, per non è che filtra e c'è il gol questa volta carne secca non può far nulla addirittura da calcio d'angolo direttamente Sergio Gomez grande giocata questa volta di Ruiz ancora Ruiz, parata di carne secca, Gil Miranda, cross a cercare ancora Ruiz, la volè, la parata di carne secca calcio di rigore calcio di rigore giallo per Udogi parte Ruiz, il tiro e il gol gol di Ruiz, 2 a 1 per la Spagna, su calcio di rigore grazie a tutti 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 Grazie a tutti